Musica Si è ripetuto anche quest'anno il tradizionale scambio di auguri per la festa di Pasqua tra la Chiesa Latina e i rappresentanti delle Chiese Orientali. L'accoglienza delle varie confessioni all'interno delle sale del Patriarcato greco-ortodosso è stata gioiosa. È una vera esperienza di fraternità, di rispetto, di reciproca conoscenza. È una tradizione di secoli e tutti quanti la rispettiamo, anzi la desideriamo, perché anche oggi questo è un bel segno di unità e di fratellanza. Due i momenti principali. Il primo ha coinvolto i frati della custodia di Terra Santa, mentre al secondo hanno preso parte i rappresentanti delle Chiese presenti sul territorio, dall'amministratore apostolico del Patriarcato latino, Monsignor Prebattista Pizzaballa, ai delegati per ogni confessione cristiana, siriaca, copta ed etiope. È una tradizione annuale per ogni festa qui. Ci incontriamo al Patriarcato greco-ortodosso innanzitutto, per poi continuare a ricambiare le visite scambiandoci reciprocamente gli auguri. Questo indica la nostra unità con le altre confessioni che viene. Condividiamo la gioia di questi giorni di festa e questo ci avvicina agli altri e ci unisce, come Gesù chiese ai Suoi discepoli. Questa usanza di scambiarsi gli auguri in questa occasione è importante, perché realizziamo che siamo cristiani e dobbiamo superare i nostri pregiudizi, le nostre divisioni. Ringraziando Dio, questo è un contributo al processo di unità e condivisione della stessa mensa eucaristica. I rappresentanti si sono salutati pronunciando i propri discorsi incentrati sull'unità e la pace tra loro, terminando con la certezza che in questi giorni ci lega che Cristo è risorto, è veramente risorto. Grazie a tutti.